Arrivi in massa di migranti, la situazione esplosiva di Lampedusa si riversa sui territori e diventa emergenza accoglienza. Ieri 12 nuovi profughi arrivati nel Vicentino collocati ad Arzignano in un appartamento confiscato alle mafie. Ma l'ondata non è destinata ad arrestarsi e in città a Vicenza si guarda con preoccupazione a quanto accade nella vicina Padova. Siamo molto preoccupati per le notizie che arrivano da Lampedusa, tutti abbiamo visto le migliaia e migliaia di migranti che sono sbarcati in questi giorni. Speriamo davvero che il governo riesca a prendere in mano la situazione e a gestire in maniera ordinata questi flussi perché sarebbe impossibile gestire centinaia di arrivi nelle singole province. Noi abbiamo sempre detto un fermissimo no e lo confermiamo agli hub, alle grandi concentrazioni di migranti nelle città e nei comuni perché diventano situazioni ingestibili dal punto di vista dell'ordine pubblico e anche dal punto di vista della gestione dei percorsi con i migranti. L'assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto rilancia sul tema della micro accoglienza ribadendo che il sistema di accoglienza a Vicenza è al collasso, sottolinea la problematica legata ai minori stranieri non accompagnati che sarebbero in carico alle amministrazioni. La preoccupazione è molto alta anche perché stiamo vedendo come anche nei territori vicini a noi come Padova la situazione è già in piena emergenza, non solo per quanto riguarda i migranti ma soprattutto anche per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati. Qui il sistema di accoglienza di fatto è fortemente saturo ed ha il collasso, ovviamente se i numeri dovessero fortemente aumentare la situazione si complicherà molto anche. Il rischio è quello di hub? Questo è un rischio che assolutamente noi scongiuriamo, nel senso che sia il sindaco che l'intera amministrazione ha sempre detto che siamo d'accordo per quanto riguarda un'accoglienza diffusa ma soprattutto della micro accoglienza, quindi contrarissimi a tutte quelle strutture che possono essere superiori alle 10-12 persone.